Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. L'accordo di governo era con azione, con quella parte riformista che avrebbe dovuto essere l'altra gamba, una delle gambe, quella più moderata, usiamo un termine desueto, che insieme ad altre poteva portarci al governo. Ma non si tratta di sinistra italiana, sinistra italiana non credo che voglia proprio partecipare al governo se vinceremo le elezioni, però vede in Emilia-Romagna, sinistra italiana sta governando con una coalizione. Le dirò di più, l'altro giorno fra Toianni e Bonelli ho letto un'agenzia dove dicono il rigassificatore previsto a Ravenna potrebbe essere un punto di partenza. Però c'è una discussione su Piombino. Quando sono venuti i ospiti qui. Guardi, quando sono venuti qui ci siamo, io e Paolo ci siamo persi tra Ravenna e Piombino, quindi non siamo in grado diciamo tecnicamente di capire. Ah no, no, però vede, però vede, le sto parlando però di cose reali. Sì, 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 ne ho certo, però dopo di che non stavano al governo ma avrebbero dovuto votare evidentemente a favore di provvedimenti, iniziative. Gliel'abbiamo chiesto il rifinanziamento per dire a missioni militari. Però mi scusi, mi scusi, mi scusi, ma noi abbiamo fatto l'esempio di Turigliatto e... Scusate un attimo, ma perdonatemi un attimo, perché secondo voi Fratelli d'Italia è d'accordo sull'autonomia che prevede la Lega? No, 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 questi sono problemi di quella coalizione che magari... Scusi, ma nel posizionamento internazionale tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, secondo voi c'è la stessa idea? No, no, ma non c'è dubbio Bonaccini. Dai, lo scartiamo. No, no, ma non c'è dubbio Bonaccini che... Infatti, guardi che tutti gli elementi, diciamo, di contraddizione che hanno portato, di crisi di sistema che hanno portato all'arrivo di Draghi, sono tutti squadronati sotto i nostri occhi in questa campagna elettorale. Dopodiché io, maliziosamente, se potessi disegnare sulla sua testa, c'è presente i fumetti Topolino, no? Quelle cose che uno pensa e non dice, io ci scriverei maliziosamente che io avrei fatto l'alleanza solo con Calenda. Però è la mia malizia, diciamo, evidentemente. E a me piacciono i fumetti, quindi facevo il fumetto. Con una battuta e chiudiamo. Risposta ad Alessandro da parte del Presidente Bonaccini. No, no, ma io avrei riprodotto la stessa coalizione che governa qui in Emilia-Romagna e in altre parti del Paese. Secondo me la potevamo tranquillamente fare, d'altra parte c'erano tutte le condizioni per farla, perché si era sottoscritto un accordo. Ma ormai, cosa fatta a Capo A, ci sarà anche un dopo il 25 settembre. E ci ha già detto che secondo me la responsabilità non è diletta, ma di chi... Perché se no riniziamo il discorso, insomma. E' di Calenda e Rezzi che si sono sottratti. In quel caso di Calenda che aveva sottoscritto l'accordo, sì, sì. La ringrazio... Per me è proprio...